Signore e signori amici di Player Inside, come cominciare al meglio questo 2023 che in vero è iniziato già da qualche giorno se non con una compilation dei migliori Game Fails di tutto il 2022 oppure proprio di... No, partiamo dal Game Fails 43, quindi andiamo al 2019 fino a Game Fails 83, quindi 40 Game Fails, quelli migliori che avete votato voi. Ora ne convengo che una puntata ogni tre anni è un po' troppo, quindi da questo momento in poi continueremo a fare questi best of... Ogni puntata. Più ravvicinati, magari utilizzando non solo quelli che avete votato voi, ma anche altri che sono piaciuti a noi. Esatto, si può fare. Presi dalle stesse puntate, è una cosa più interessante. Si può fare, intanto godetevi questa compilation e ci vediamo dopo, alla fine. Sì, cominciamo subito. Ci vediamo dopo. Ok, è finita lì, meno male. Qui succede di tutto in Fattraic. Far che cinto. Tutto, guarda, questo aereo, di scendere. Sì, è di po', sì, è di po'. Non so, ne hai... Ragazzi... Ma quello col paracadute! Quello col paracadute! E cosa? No! No, ragazzi! No! Che figuraccia Ezio con questo tuffo. Continuate a guardare lo sfondo. Ok. Ragazzi, questo è più che pazzi per i bug, è stupidi per i bug. Cioè, questo finisce la quest, ti ringrazia. Potremmo fare coglioni per i bug. Ti ringrazia e se ne va. Cosa potrebbe prendere il torto? Oddio! Sì, attenzione, parte una scena. Sì. Quindi siamo a vedere qui, dei crew, vediamo un po' che succede, una bella scena. Bello, ok. Oddio! No, no, questa... Arriva così la macchina, signore. Ok. Sì. Immancabile. Sì. Immancabile, assassin's creed, insomma. Sì, uccide un altro. Si mettono in fila per farsi uccidere. No. Un tipico stile assassin's creed. Un'altra guardia. Sì. E un'altra ancora. Prego, il prossimo. Se si fa la fila e si spawnano continuamente, guardi, eh. Ah, sta timbrando i cartellini. Tu dirai ci sarà un limite? No. Cominciano a crescere, a diventare... Però finalmente, dopo 72 uccisioni, si sono accorti che era una minaccia. Guardate quanti se ne fanno. La cosa è assurda che cala pure il framerate. Magari sta giocando pure sul console. Assurdo. Sì, sta giocando su PlayStation. Ma attenzione. E questo è bellissimo, questo l'ho già visto. Questo l'ho già visto. Signori, missione, non ci crederete, fallita. Qui succede una cosa assurda, ragazzi. Sì, intanto c'è un cadavere per te. No, intanto c'è sto poliziotto che cammina e muore da solo. Poi, l'altro poliziotto a destra se ne va. Se ne va, ragazzi, definitivamente. E poi, ragazzi, succede questo. Eh? Vediamo. Attenzione, l'ambulanza. È arrivata l'ambulanza a soccorrere quello. E' lo sportello. Ma quello se ne va. Ma è la cosa più bella che abbia mai visto. Cioè, uno è scappato. Ok, però aspetta perché lo sta soccorrendo. Se ci fossero state possibilità di trovarlo vivo, adesso proprio... No. Ah, sì, scena. Io starei in silenzio perché è importante questa scena. Sentimio è un romano. E verrà... Guarda la signora lì. Sì? Cosa fa? Cosa fa? È per l'angolo dei sexy vecchi. Si commenta da solo, ragazzi. Ma questa è bellissima. Ha finito. No, continua. Da solo. Ma che bello l'orizzonte. Che tranquillità. È vero? Sì, sì, sì. Bello, guardiamo. Niente può succedere. Ma se dici così, so che... Ragazzi, questa è la logica di GTA. Allora, lui investe una signora anziana. Lei reagisce in maniera un po' esagerata rispetto a quello che farebbe realmente la signora. Ma poi arrivano degli sconosciuti. E se la prendono con la vecchia? È vecchia quella tu. Ma la signora è anziana. Però se la cava molto bene, attenzione. Sì, ma loro la picchiano fortissimo. Mamma mia. Non solo, ma la cosa che mi fa più ridere tutti è che poi infieriscono. Da. Ok, questa è una missione. Io già immagino. E lo sapevo. Questo è fantastico, ragazzi. Guardatelli. Replay, replay, replay. Io farei parlare, ragazzi. Guarda dietro. Sei pericolosamente vicino al limite, cavallo. Attenzione, godiamoci un po' di sana volgarità. Maledizione. Brutta stronza. La puttana. Brutta stronza. Stronza. Maledizione. Brutta stronza. E va. Tiene anche il ritmo così. La puttana. Stronza. Maledizione. Cazzo. Ecco, Dina, ci voleva. Guarda, godetevelo, ragazzi. Ok, vediamo, vediamo. Incidente. Ha investito uno con la moto. Sì. No. È serio, è passaggio. E vabbè, fottitela la moto, però dammi un passaggio. Ora si è reso conto. Ora ha capito. Oddio. Allora, qui già l'incidente dell'autobus. Guarda qui e basta. Guarda e basta. L'intelligenza artificiale di GTA. Vabbè, già. Vabbè, fino a non è successo io. Quello è un incidente. Ok. No, gli sale addosso. Quello si alza giustamente. E prende l'autobus. No. E lo picchia. Lo picchia. Aspetta, l'è finita. Lui giustamente reagisce. Sì, sì, sì. Ok, fin qui. Fin che canzi. E non è finita, signori. Guarda questa scena. Sì. Troppe morti. Troppa rabbia. Ciò che è fatto, è fatto. E lui, guarda. La signora, ma cosa è successo? E lui l'ha trovata. Ceno. È come quando perdi il palloncino a gas da piccolo, eh? Esatto. Che rimane in cielo per anni. Bevetene tutti. Niente. Tu hai l'alga di chi sorseggia la birra come una pancina. Va bene. Sempre sti animali che si mettono in mezzo alle palle. Però è scomparso. È scomparso. Ha avuto la delicatezza di andarsene. Bene, Eivor puoi riprendere a parlare. Sì. Ok, accetto la sfida. Sarei rive... Oh, oh! Questo è da vedere! Ok, ok. Non è proprio così. Quello l'ho ammazzato definitivamente. Dai, tu almeno... No! Ok. No! Ok. Trova un posto in cui si è detti. Ma non... No! Non così poi quella carta sospesa... Sta barando. Esatto, sta barando. Sta barando. Si è vista, si è vista. Vediamo che succede. Sì. Già rido. Già rido. Già rido. Facevo bene. Ecco, qui succede frame che se ne va. È colpa sua. È colpa sua. Questo è così il bar. Andatece lì. Era così. Tutto a posto. Volo. Per scodere la spada. Ma vediamo un po' cosa fanno loro, i soldati. Ah, nuoto sincronizzato. Ah, va bene. Ma vedi, questa è bellissima. Questa è proprio una genialata. Questo è il gioco che si ribella a se stesso. Qui non capisco cosa succede. Menare pugni per l'aereo. Allora, innanzitutto è investito. Perché polizie e guardie del fuoco si stanno sul calcio. Esatto. E quindi questa... Vabbè, lui si alza e se la prendevo la signora in macchina. Perché? No, perché? No, perché? Signora morta, il poliziotto... Ma perché? Ovviamente l'ambulanza, il paramedic è invasito. Ma questa è una cosa bellissima. Come si comporterà adesso il poliziotto? Come se niente fosse. Come se niente fosse, senti. Signora, lei ha compiuto un omicidio. E qui ci sarebbe da fare abbassute. Si, sono a salutare. Ah, ok. Ok, convulsioni. Convulsioni, capiamo che sono le convulsioni. Sì, ma... Calma, cioè... Ma cosa sta subendo di base? Che ora sei libera. Sei libera, perché ti abbassi? E su, è così. Anche questo non è male. Questo è bellissimo. Non so se ho mai riso così tanto in una puntata di Game Face. Mio Dio. Però se tu vedi nello sfondo, pure quello cammina strano. Ma che sia un effetto del lag, in realtà. Non ci importa. Basta che lo faccia, perché ci fa ridere. Cosa dà il pugno al palo, cretino? Vabbè, il poliziotto lo uccide. Un po' eccessivo. Un po' eccessivo. Vediamo che succede adesso. Quello è morto. Se lo sei rialzato, in realtà... Poliziotto? Non so, raga. Non lo so. Nota, no. Attenzione, arrivano i rifornimenti. Così. Va bene. È direttamente l'aereo. Non doveva andare così. Il minimo. Ok, rifornitevi. Guardiamo. GTA anche fa la sua bella figura. Compenetra il sottomarino. Bella, queste capriole. Tra l'altro, lui vestito alla James Bond un po'. Questo tuffo è bellissimo. Il tuffo non tuffo. Guarda che pietini, come fa. Ascolta. Ho capito, però... Va bene, non ne pare un dramma. Calma. Piano, piano. No, 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 no. No, 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 non fare così. No, amico mio. Non è che problema è che ha. Non lo so. Ok, combattimento contro un lupo. E dai, lancia via. Ok, basta. Basta. È morto. È morto. Basta. Basta? Oh, amico. Lo vorrei rostire. Ma pure per una questione di quanto paghi di gas, poi. Basta. E che gas userà, secondo te? Basta. Problem. Queste cose mi fanno morire. Seguiamo qua, in silenzio. Sì. Raiden? Tutto. Guarda bene. Lui era all'impiedi sul cavallo. Vai, si scappa di cagare. E se è dovuto fermare... Arriva, arriva. Si sta tenendo. Si sta tenendo perché cerca un bagno. Vabbè, vai, falla nelle fresche frasche. Cosa stai cercando? Vai, Aloy. C'è una scia? Eh no. È perché... Che brava. Devi aspettare che passi quella. Pera passa. Occhio a Aloy perché sta arrivando l'onda. Vediamo. Sbagata. Cosa? Cosa? No, qui mi affendo. Cosa sto guardando? Qui è impazzito tutto. Proprio il dogma del gioco. Sta addettando nuove regole della fisica. Dino! Dove va? Dino! Cosa fa? Dino! Ma c'erano altri modi per divorziare. Insomma, per interrompere questo rapporto. Come vai, Dina? Cosa fai? Credina! Questa era bella. Questa era bella. Oh mio Dio. Ma non sembro io tipo a Gardaland quando non volevo fare le giostre? Sì, che una volta ci è finita così e siamo svenuti e la testa ci faceva già come già come. Però voglio dire, qua in questo caso gli vieni da un lato. Dai, sali, sali. Dai, sali, forza. Sali sul carallo. Dai, risolvi il bagno. Dai, figa! Risolto, risolto. Oddio. Non risolto. No. Che esibire la coccarda tricolore sia fuori moda. Che è quello? Chi hai fatto? Questo è ciò che succede quando il potere finisce in mano a pazzi e affamati e l'esercito è guidato da selvaggi assetati di santa. E' abbattito. Ma che cosa vuoi fare? Ma tu sai dove posso provarlo? Ho capito. In giro corre voce carino. Questi sono i bug che preferisco. Allora se ne facciamo bestia. Preparati a un discorso. Ma è bellissimo. Non doveva essere. Sto arrivando. Ragazzi, hai fatto bene. No, basta perché non riesco a smettere tutto. Ma come nasce la musica? Certe volte uno dice, ma sai... La musica nasce anche dai bug. Stai cazzata. Tra l'altro ricordiamo come è nata la musica vera? No. Andiamo avanti. Però c'è qualcosa che... Le solite scene bugate. Qualsiasi cosa. Vivo in una piccola comunità non molto distante. La terra è... E' mo'. Si sta desincronizzando perché sta morendo. Scriveteci qui nei commenti, ragazzi, quello che vi ha divertito di più. Che in pratica è il bug dei bug. Il bug dei bug oppure il game fail dei game fail. Come può essere, per esempio, il goal dei goal sbagliati a porta vuota in FIFA dei FIFA. Che non c'era però. Non c'era nessun goal sbagliato a porta vuota. Ma perché siete veramente bravi e perché segnate sempre. E quindi questo. Vi ringraziamo tantissimo per questi altri tre anni di Game Fails. E andiamo ancora avanti perché già ce ne state mandando tantissimi. Quindi arriverà presto l'altra puntata di Game Fails. E non li mandate su Instagram. Non li mandate su Facebook. Non li mandate su Telegram. Non li mandate via fax. Solo via mail. Link... Non link. Cioè, trovate tutto in descrizione. Noi ragazzi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Ciao.